La Regione Calabria assegna un contributo straordinario di 164 mila euro alla Sogas, l'ormai ex società di gestione dell'aeroporto di Reggio Calabria. I nuovi fondi autorizzati nel corso dell'Assemblea saranno utilizzati per garantire l'esercizio provvisorio almeno fino al prossimo 18 luglio. Il 14 luglio, secondo quanto affermato anche dal sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, Sacal dovrebbe subentrare ufficialmente nella gestione dello scalo. Il provvedimento è passato a maggioranza con il voto favorevole di Forza Italia e Casa delle Libertà. Assenzione per il gruppo misto, con l'eccezione di Mario Magno, che ha votato contro. Il clima si surriscalda dopo gli interventi delle opposizioni, diverse le perplessità avanzate da Francesco Cannizzaro. Di certo dobbiamo anche dire ai calabresi che queste sono soltanto briciole, non possiamo lanciare fumo negli occhi. Chiedo alla maggioranza, fa sapere Cannizzaro, delle lucidazioni sul nuovo piano industriale e di riferire quali sono le novità dopo l'insediamento di Sacal. Il governatore Oliverio, dal canto suo, rivendica alcuni risultati. Abbiamo destinato 12 milioni a sostegno del co-marketing per incentivare le compagnie in tutti e tre gli scali. Abbiamo inoltre avviato una interlocuzione con la Commissione europea che ci permetterà di emanare un altro avviato bando di 12 milioni di euro per la creazione di nuove rotte. Il governatore riferisce anche quanto emerso dall'incontro della scorsa settimana con i vertici di Alitalia. Abbiamo esposto la necessità di rivedere gli orari relativi al collegamento di Reggio con Roma, di intensificare i voli sulla capitale su Milano e di sfruttare gli spazi concessi da nuovi bandi.